Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati, io sono bella faccia al vostro pollo preferito, bentornatissimi su minecraft, vi siete mai chiesti ma in questa nuova versione è possibile creare una nuova armatura, è possibile avere una nuova spada, è possibile avere una pizza, è possibile addomesticare un axelot di colore celeste, forse l'ultima si, comunque sia dovete... Che ti guardi? Dovete lasciare un mi piace, dovete iscrivervi immediatamente a questo canale, avete tre secondi prima che questo video si autodistruggerà, non sto scherzando, tre, due, uno, buh! Allora cominciamo subito, dobbiamo sopravvivere innanzitutto in questo mondo, dobbiamo cercare le nuove, come posso dire, i nuovi attrezzi perché ci sono degli attrezzi molto particolari come avrete letto dal titolo, però non voglio spoilerarvi niente. Avremo bisogno dei nostri axelot, innanzitutto avremo bisogno di cibo perché io per sopravvivere ho bisogno di cibo e avrei bisogno anche di una pizza, quindi a tutti i fattorini di pizze, se mi state ascoltando me ne portate una con la salsiccia e magari con la cipolla? Grazie mille, è la mia preferita. Ok, perfetto, quindi procuriamoci del cibo per questa spedizione. Ve la smettete di seguirmi, che cavolo pecore? Ok, allora, c'ho un oceano qua di fianco, ma cos'è il mondo dei pazzi? Ok, esco, non voglio sapere, non voglio sapere nulla, ma che cavolo sta succedendo? Ma cosa sta succedendo oggi? Ma siamo tutti pazzi? Allora, innanzitutto mi serve... Sì, è pazzo quello, me ne vado, me ne vado via, me ne vado via, mamma mia. Mi serve, mi servono dei secchielli perché devo catturare degli axelot, perché con gli axelot, si potrà creare qualcosa di fantastico. Una cosa che non c'è ancora su Minecraft, quindi creatori di Minecraft, se guardate questo video, prendete ispirazione, visto che ve la prendete sempre con calma per aggiungere le cose, quindi quando volete. Ok, quindi, crafting table. Perfetto. Dobbiamo prendere del ferro. C'è del ferro da qualche parte? No, vero? Aio. Ma che cavolo è quel coso? Ma che cavolo? Ma cos'è? Ragazzi? La città atlantide. Ma questo mondo è strano, eh? Questo mondo è molto strambo. Panini, a volontà. Ok. Ok, allora, adesso vado in miniera a prendere del ferro e ci vediamo fra poco pochissimo. Una caverna! No, non ci sono per niente i mostri là dentro, eh? Andiamo. Ok, perfetto. Abbiamo trovato un sacco di ferro e direi di iniziare a creare le cose che ci servono per queste nuove superarmature. Innanzitutto ci serviranno i secchi d'acqua perché dobbiamo catturare gli Axelot, come avrete capito. Ok, quindi adesso aspettiamo che tutto questo ferro cuocia e poi cerchiamo i nostri Axelot. Axelottini, dove siete? Li vedete ragazzi? Allora, ci servono vivi, eh? Non li trovo, dove sono? Dai, per favore, fatevi trovare. Devo far vedere una cosa incredibile, ecco, sta facendo anche notte, perfetto. Ok, trovato il primo. Trovato il primo, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, preso il predatore più adorabile, perfetto. Ne ho preso uno, ok. Adesso ne prendiamo un sacco, ragazzi. Cerchiamo di prenderne veramente tanti e vi faccio vedere la super novità. Ok, è passato un po' di tempo. Guardate quanti Axelot ho preso, ragazzi, tantissimi. Ok, iniziamo subito. Se mettiamo un Axelot qua... Oh, ma che cos'è? Il lingotto di Axelot? Ma che cavolo? Ma com'è possibile? Un lingotto di Axelot? Ma è Minecraft questo, forse? Vediamo che cosa possiamo fare. Oh, con questi lingotti. Un elmetto di Axelot. Ma che cosa sta succedendo? Ma questo è Minecraft proprio così. Oh, mamma. Allora, vediamo. Facciamo una prova. Ma se io li metto così... Non succede nulla, vero? Con i secchi. Ok, con i secchi non succede nulla. Quindi, facciamo una marea di lingotti. Lingotti. Ho detto lingotti. E fammi lingotti. Quindi lingotti, lingotti. Ok, tantissimi. Possiamo crearci tutta l'armatura di Axelot, ragazzi. L'armatura di Axelot. Ma avete mai visto l'armatura di Axelot? Nemmeno nei sogni, secondo me. Ok, proviamola subito. Guardate che roba. È bellissima. Oh, mio Dio. È carinissima. Guardate, con la faccina qua sotto. Armatura di Axelot. Ma non è finita qua. È anche super potente. Guardate. Punti armatura 4. Punti armatura 10. 8. 4. Potrebbe essere l'armatura più forte di Minecraft. Ma non è finita qua. Perché abbiamo addirittura la spada di Axelot. La Swordlot. La Swordlot, ragazzi. Guardate che bella. Ha! Eh! La Swordlot. Abbiamo l'armatura che si chiama Elmot... Elmotlet... Sesto Lotplate. Ok, è un po' difficile da pronunciare. Lego... Lego. Lego Lotlings. Bootlot... Eh, vabbè. Abbiamo capito. Guardate. 15 danni per colpo. Ma è come due spade di rite insieme. C'è qualcuno da picchiare? Mamma mia. Ok. Voglio subito provare queste cose. Ma poi non è finita. Cioè, abbiamo tantissime cose. Abbiamo il piccone. Piccaxel Lot. Sì, vabbè. Abbiamo l'azzetta. L'azzetta di Axelot. Abbiamo, penso anche... Vabbè. La zappa. E abbiamo anche... Cosa manca? No, gli attresti li abbiamo tutti. La pala. Che cavolo. Bella falsa. Ma ti scordi le cose? Snowlot. Questo... Hoelot. E che cosa abbiamo poi? Forse il blocco di Axelot? Sì! Blocco di Axelot. Guardate che bello. Addirittura un blocco. Sentite? Ok. Addirittura... Sentite? Mio Dio che schifo. Che ammasso di gelatina. Abbiamo addirittura i blocchi. C'è i blocchi di Axelot ragazzi. Mio Dio. Ok. Quindi queste sono le cose che possiamo fare. Ok? Tutte queste cose. Ok. Penso che sia tutto. Lo scudo. Sarebbe bello avere lo scudo di Axelot. Vediamo. Manca qualcosa? Mmm. Abbiamo tutto. Ok. Andiamo subito a provarla. Mio Dio. Cioè guardate. Ho l'intera armatura di Axelot. Ok. Proviamo subito queste cose. Vediamo. Addirittura il piccone cava 10. Lascia 25. C'è lascia cava 25. Guardate la pala. Quanta scava veloce. No vabbè. Questo è un equipaggiamento d'hacker. Cioè questo è un equipaggiamento d'hacker ragazzi. Ok. Vediamo. C'è sciotto il coniglio quindi io. Vieni qui. No dai. Ti lascio in pace. C'è un golem. Voglio provare a sfidare un golem con questa armatura. Cioè sono super potente. Chi proverà mai a sfidarmi? Golem. Vieni qui. Proviamo un colpo. Vai. Oh. Uno. Due. Non mi cava niente ragazzi. Aio. Cioè adesso niente è un parolore. Ai 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 ai. Tranquillo. Tranquillissimo amico. E beccati. Il terzo colpo. È forte il golem eh. Il quarto colpo. Mamma mia. Sono super forte. È super potente. Ma quanto è forte. In acqua secondo voi mi dà qualcosa? Vediamo. Eh però mi aspettavo dei bonus marini eh. Mi aspettavo un po' di bonus marini da questa armatura. Wow comunque. Il piccone. Vediamo. Allora. Facciamo i test. Facciamo un attimo i test. Allora. Piccone di ferro. Eh piccone. Volevo dire piccone di pietra. Piccone di ferro. Piccone di axelot. No vabbè. Ma che è? Ma che è? Il piccone hacker. Ma è un piccone axelot. Eh vabbè. Ma cos'è? Ma è troppo veloce. Dai. Ma non è possibile. Ma gli axelot non sono così potenti. Oh salve. Gli axelot non sono così potenti. Ma dai. Che cavolata. Non ci credo. Ma che è qua? Il party? Tanto non mi fate niente. Ho un'armatura incredibile. Cioè guardate. È tutto potentissimo. Cosa manca da provare? Lascia. Vabbè. La zappa neanche provarla. Fa troppo ridere. Sembra che abbia due occhi. Ciao ragazzi. Sono la zappa di bella faccia. Ok. Torniamo di sopra. Vediamo. Cioè il legno lo divora. Il legno lo divora. Guardate che roba. Pam. 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 È super potente. Super bello. Wow. Pam. Vabbè. Ragazzi fatemi sapere. Se vorreste che aggiungessero queste cose. Cioè guardate. Tutte le cose dell'Axelot. Tutte le cose dell'Axelot. Per chi ama l'Axelot. Questa è una mod fantastica. Purtroppo è una mod. Però potrebbero aggiungerla. Sì come no. Un'ascia che cava 25. Devo ancora vederla. Vero? Cavallino. Wow. Sei forte. Hai resistito. Ragazzi. Da me è tutto. Vi auguro una fantastica giornata. Lasciate un mi piace. E mi raccomando. Viva gli Axelot. Ciao. 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 Grazie a tutti.